L'ordine dei giudici è Eberat, Pacconen, Rota, Tarsinski. 15.5, 15.5, 15.5, movement 18.5, 18, 19.5, 18.5, total score 434.5, 434 punti e mezzo il totale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 18.5, 18.5, 18.5, 19. Halt, 18.5, 18.5, 19, 19. Neck, 18.5, 19, 19, 19. Body in top line, 18.5, 18.5, 18, 18.5, legs 15.5, 15.5, 16, 15.5, movement 19, 18.5, 18.5, 19. Total score 435. 435 i punti di Aljawara e Mira.